Ci siamo, è il grande giorno di Italia-Serbia, quarti di finale di Eurobasket 2017. Questa sera alle ore 20 e 30 verrà alzata la palla 2 della sfida tra le nazionali allenate da Ettore Messina, e da Sasha Gjorgevic. Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo il torneo di Acropoli giocato ad agosto. In quell'occasione i nostri avversari vinsero 65-73. Italia-Serbia ci vede nel ruolo di grandi sfavoriti, è inutile nasconderlo. Qua Gjorgevic non può contare su fenomeni come Milo Stodosic e Nemangia Vgelica, ma ha a sua disposizione uno straordinario talento come Bogdan Bogdanovic. Il nuovo giocatore dei Sacramento Kings, triennale da 30 milioni di dollari per lui, è il faro della nazionale serba e sta giocando un Eurobasket 2017 a dir poco fenomenale. L'ex guardia del Fenerbace, sta viaggiando a 19 marzo punti e 5 marzo assist di media a partita. Se vogliamo uscire i vincitori da Italia-Serbia bisognerà come prima cosa partire dal fermare proprio Bogdanovic. Poi Ettore Messina dovrà cercare una maniera per limitare i lunghi a disposizione di Gjorgevic. L'ex playmaker dell'Olimpia Milano, e della Fortitudo Bologna lo ha spiegato alla perfezione in un incontro con i giornalisti italiani. I nostri lunghi sono più L-U-N-G-H-I. Una frase semplice e scherzosa che racchiude al suo interno la verità. In confronto alla Serbia siamo piccolissimi. Il primo spauracchio è certamente Boban Marjanovic. Un gigante di 222 centimetri pronto a dominare gli azzurri. Le cifre del giocatore dei Detroit Pistons sono le seguenti. 13 punti in soli 15 luglio minuti di media sul parquet. Provate a immaginare che numeri possa far registrare se restasse in campo di più. Gjorgevic può anche contare sui centimetri di Ongen Kuzmic, uno dei migliori centri della passata Eurolega che si è meritato la chiamata del Real Madrid dopo aver passato l'ultima annata nella Stella Rossa. Milan-McVan sta giocano un ottimo Eurobasket 2017, e i suoi centimetri, e la sua intelligenza cestistica possono farci molto male.